in diretta Federico ci sei? Ci sono buongiorno buonasera anzi finalmente buonasera a te sicuramente avrai ascoltato insieme a noi i contenuti della copertina una grande stagione concertistica a Napoli con Coldplay e grandi gruppi nazionali e internazionali cantanti di grande fama che arrivano proprio a Napoli intanto ti chiederei dalla tua competenza in materia perché sei un esperto di musica e poi li conosci tutti quindi che stagione è alle porte soprattutto in vista di questa primavera? Guarda sembra fatta apposta per fare una festa lunga sul fronte di quella cosa non succede ma se succede ci abbiamo anche tre mesi di concerti per fare festa pensa che ci sarà una sera in cui non so come la metterò io come la metteremo noi in cui c'è Tiziano Ferro allo stadio Maradona e Vasco Rossi allo stadio Arecchi di Talerno. C'è la qualunque o quasi perché in realtà poi ci sono solo grandi nomi mainstream Napoli resta fuori invece dai circuiti delle musiche che verranno dopo di quelle che bisogna scoprire in tempo ma c'è davvero di tutto c'è Piazza del Plebiscito che passa da Gigi D'Alessio ha liberato c'è Mengoni c'è una stagione importante parzialmente ancora da annunciare all'Arena Flegrea ci saranno sorprese napoletane. Federico ci ritorniamo tra un attimo al successo che rappresenta direi in Italia ma anche nel mondo la nostra città rispetto alle altre peraltro nella classifica siamo terzi come città che maggiormente ospita i grandi artisti che vengono da tutto il mondo però la copertina lanciava una provocazione concludeva dicendo le nostre strutture sono adeguate ad ospitare con tanta maestria tanta creatività tanta musica e questi artisti che naturalmente chiamano a sé un pubblico di tantissime persone. La risposta è no. Quali strutture anzi potrebbe essere la risposta. Il Maradona può farlo però il Maradona è l'estate e chiaramente è sottomesso al calendario e agli impegni degli azzurri. Il problema è che una città che vuole essere nel circuito dei grandi eventi deve avere un palacoso chiamiamolo come volete. Un pala qualcosa per 10, per 20.000 persone, per 5.000 persone. Noi stiamo parlando dell'estate ma invece in pieno inverno ci accontentiamo dei tour italiani che arrivano all'Augusta e ho spazio massimo a nostra disposizione o che devono andare a eboli. Ecco sotto questo aspetto la musica e le strutture si fermano ancora a eboli. Ne abbiamo piacere per il palasele ma non è abbastanza soprattutto soffermiamoci anche sul palapartenope che è un po' già qualcosa. I maneschin al palapartenope. Sarà sufficiente quella struttura per esempio? Andiamole un po' ad analizzare perché poi c'è la caccia, il teatro Bellini, ci sono dei teatri che c'è, non puoi mettere i maneschin in teatro. Puoi mettere 5.000-6.000 persone in piedi lì. Perdonami se ti interrompo ma sai che il tempo di televisione è tiranno. Colgo questa tua sollecitazione perché offre il fianco a una mia domanda. Hai citato Pino Daniele. Che cosa cambia? Tu insomma hai vissuto tantissimi concerti in tante epoche diverse, almeno due possiamo dirlo perché da ragazzo già li seguivi. Anche oggi che sei un po' più maturo lo fai sempre con grande stile. Che cosa cambia? Che cosa si è trasformato soprattutto all'interno del pubblico nell'accoglienza di questi grandi artisti? Quanto c'è di cultura, di arte oggi rispetto a prima? Se vale sempre la pena andare a seguire un concerto per gli artisti che abbiamo oggi o se insomma il livello si è abbassato? Ti chiedo anche così un commento un po' personale tecnico. Ma io all'epoca se avessi dovuto pagare il biglietto non sarei andato a vedere Duran Duran e avrei pagato per vedere Fabrizio D'Andrea. Visto che pagavano me sono andato a vedere tutti e due. Oggi pagherei per andare a vedere Paolo Conte e magari non andrei a vedere alcuni trapper vuoti. Ma non è importante questo, non cambia. I ragazzi hanno diritto al loro suono. La musica è democratica. Un uomo ha un voto. Che si scelga un neomelodico, che si scelga Riccardo Muti, la musica non ha mai fatto male a nessuno. Certo, se poi ci portate Bob Dylan o Tom Waits saremo più felici. Ma magari mio figlio dice Tom Waits chi? Io proverò a spiegarglielo e lui credo che farà in tempo a capire. E tuo figlio ti chiederebbe, papà ma a proposito delle piattaforme, anche tutto questo che cosa cambia? Cioè vale ancora la pena andare a seguire un concerto, a guardarlo, emozionarsi? O le piattaforme online si pongono in loro vece? Cioè si sostituiscono? No, no, no. Il fronte del palco è più vivo che mai. Vale a dire, le piattaforme, la mancanza del rituale dell'ascolto del disco hanno dato ancora maggior spazio al live, che fra l'altro costa l'ira di Dio perché i biglietti costano cifre pazzesche.